Ti pregherei di leggere almeno l'inizio di questo testo e mi dici chi lo ha fatto? Quel ramo da lago di Como. No, quel ramo del... Oh aspetta, non so buono a leggere, c'è me la cata al cassa, a me ci metto tutto il tempo che voglio. C'è la quinta elementare. C'è la quinta elementare, c'ho quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a sani e a golfi. Oh io non ci sto a capicasso, ti dico la verità. È molto semplice. Tutto a sani e a golfi. A sani e a golfi. Ah sì, volevo dire, forse è una parolaccia. No, lo scritto a sani e a golfi. Seni, è scritto lui il poeta, lo ha scritto il poeta, imbecille. Tutto a sani e a pregne. No. Ah no, tutto a sani e a golfi. Ah ok, ok. A seconda della spagnola che gli fecero con i sani e degli entrati di quelli al venire.